Ecco, in questo pezzo vediamo come si preparano gli stucchi che vengono messi dentro lo stampo di silicone e poi vengono appoggiati su un piano di legno a parte. Ecco, vediamo qui, la procedura dall'inizio prima si impasta, la pasta di legno in questo caso, poi viene stesa dentro lo stampo in velocità, altrimenti poi la pasta si secca. Di seguito viene tagliata con un coltello e sollevata. Ecco qua. Qui ci sono gli stucchi che sono gli angoli di questa cornice qua, che verrà poi fatta. Ecco qua. È una cornice piuttosto grande e dovrebbe essere una cornice francese del Settecento, diventerà poi uno specchio, cioè una specchiera. 3, 4, 5, 6, 7. Manca l'ultimo angolo per completare gli 8 angoli della cornice, cioè sono 4 angoli e 4 mezzi. Grazie a tutti.